Inauguriamo un nuovo studio, la grande novità è che ho il mio pubblico. Quante volte ci siamo occupati dei blocchi stradali? Solo danno alla popolazione. La classifica delle città italiane con più criminalità. A furia di girarsi dall'altra parte il fenomeno è diventato talmente esteso. Una situazione allucinante. 120.000 sfratti in arrivo. Paolo Del Debbio, in diretta, 4 di sera, da lunedì a venerdì, alle 20.30, Rete 4. Signore e signori, un attimo di attenzione. Entra in aula il giudice Francesco Foti per dare lettura della sentenza. Prego, giudice, di nuovo.